Nasce ufficialmente la rete delle edicole, il progetto promosso dal CESCOT Abruzzo che trasformerà le edicole di Sulmona in infopoint turistici. Gli edicolanti stanno seguendo un corso della durata di 100 ore per prepararsi al meglio ad accogliere i turisti, e dunque via a lezioni di inglese, di marketing turistico e di informatica. I dettagli sull'iniziativa sono emersi ieri dopo un incontro che si è tenuto presso la sede dell'Officina dei Sapori, tra gli edicolanti della città, Angelo Pellegrino, direttore del CESCOT, Ermanno Anselmi, coordinatore nazionale della Federazione Nazionale e Giornalai della Confesercenti, Peppino Ranalli, sindaco di Sulmona, e Pietro Leonardozzi, vicepresidente provinciale della Confesercenti. Il progetto, approvato e finanziato dalla provincia dell'Aquila, si è dunque costituito ufficialmente. L'obiettivo è quello di trasformare le edicole da tradizionali punti vendita di quotidiani e riviste Impostazioni strategiche per la diffusione dell'informazione turistica e culturale. Un progetto questo che beneficia del plauso dell'amministrazione comunale. Nel suo programma di mandato, infatti, Ranalli ha inserito la nascita di una rete che dovrà lavorare in sintonia con lo sviluppo della città di Sulmona. Le attività principali di cui si occuperanno le 15 edicole che aderiscono al progetto sono la gestione delle informazioni turistiche, della promozione del prodotto e dell'assistenza ai clienti. Nelle strategie di approccio all'attività, gli obiettivi saranno informare i turisti sui prodotti e servizi turistici a disposizione, sviluppare la comprensione dei fabbisogni della clientela e delle tendenze del mercato, promuovere il territorio anche attraverso la diffusione di materiale informativo e divulgativo, nonché gestire la propria edicola come spazio informativo, anche in occasione di manifestazione ed eventi, gestire la biglietteria, la prenotazione e la vendita di prodotti turistici. Tra le richieste degli edicolanti, sgravi fiscali per le proprie attività e una percentuale sui biglietti venduti. Questo sarà argomento del contratto di rete che verrà sottoscritto entro la fine di novembre.